Sono stata a Mannheim in Germania e sono stata per cinque mesi. È stata un'esperienza bellissima e ricca di sorprese. Mi ero molto preoccupata all'inizio, pensavo di non trovarmi con le persone, non trovarmi bene nella città e invece ho conosciuto persone fantastiche e l'università era organizzata anche molto bene, quindi facilità nel conoscere nuove persone, facilità ad avere contatti con i professori, lezioni molto belle e interessanti, quindi sono stata molto contenta. Sono stata in Finlandia, è stata un'esperienza fantastica, la rifarei altre mille volte, anzi ripartirei domani. Consiglio a tutti questa esperienza, non soltanto per l'ambito didattico, che è stato comunque tutto semplice e andato liscio come l'olio, ma soprattutto per capire il paese, la cultura, entrare nell'ottica di altri modi di comportamento e capire per quale motivo certe persone sono in un certo modo o in un altro e non giudicare alle apparenti.